...con un lenzuolo e si vede solo un piede, oppure lei ha detto, qualcuno mi ha detto che c'è il corpo di una ragazza e poi ha precisato chi. Non ha detto chi gli ha riferito, ha detto che sembra che il corpo sia nell'armadio coperto con un lenzuolo e si vede solo un piede. Oh, allora, quando lei ha saputo, lei, come era morta Meredith? Che era morta Meredith e come è morta, come è morta. Quando gliel'ha detto? Quando lei ha saputo, quando lei ha saputo. verso la cultura, più tardi, lei non ha saputo il corpo di una ragazza e poi ha sentito anche Filomena dire oddio Meredith. E come era stata uccisa? Quando l'ha saputo? Scusi, faccio l'esempio, poteva essere stata colpita con un colpo di pistola, con una pugnalata, avvelenata, cioè, quando? Chi gliel'ha detto della polizia? Questo è importante, quindi lei non sa come è stata ammazzata. Non lo sapeva come era stata ammazzata. Che cosa le diceva la polizia? La polizia le ha detto che le è stato tagliato la gola. Chi gliel'ha detto della polizia? Un uomo, una donna. E quando gliel'ha detto? Si ricorda solo che era alla questura che ha saputo come e perché... a che ora? Dopo aver parlato? Dopo essere stata sentita dalla questura? Lei è andata via? o aspettava? O ha aspettato? Dico allora. La prima volta che sembra di essere stata un tempo lunghissimo per quattordici ore. Da interrogata però. Ma c'è stata, lei stava nella sala d'attesa. Sì, sì, insieme ad altri. E chi erano le altre persone? E compagni di casa? E poi altre persone? E poi i vicini di casa? Un po' un po'. Dopo sono arrivati gli amici inglesi di Meredith, le persone che conoscevano Meredith. Ma lei, lei ha parlato con loro? Ha scambiato qualche confidenza? Sì, hanno detto tutti che sembra che il corpo di Meredith sia stato trovato in un armadio. Sì, hanno detto... Chi lo diceva? Chi lo diceva? Si ricorda di aver parlato con gli amici? Ma gli amici chi ci deve... Deve dirci il nome. Un nome, anche solo il nome, ma... Sì, ho parlato con Sophie. Eh? Ma non sa conoscere il nome di Sophie, ma non il nome degli amici. Una certa... Natalie? Do you know Natalie? Di Londra? Non sa legare il nome a un vittima, ma... Ma... e lei che cosa diceva? Che commenti faceva lei? Lei? Ha raccontato quello che sapeva che è arrivata a casa e ha trovato a casa. Lei ha mai visto, aveva visto in quei momenti, la ferita al collo di Meredith? In quel momento. In quel momento. In quel momento. In quel momento. Have you seen in this moment... The womb? No, I never saw Meredith dead. I've never seen her. No, 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 no... Ecco, ma... C'era qualcuno che diceva quella sera... Qualcuno che diceva che era morta subito. Qualcun altro che diceva che doveva aver sofferto. A lungo. Eh? Somebody is saying that she died quite immediately and somebody is saying that it took quite a lot for her to die. Ecco, c'era qualcuno che lo diceva? Ah, ah. Qualcuno degli amici. Has there been anyone among whose friends, whose people, they or she died... Eh... 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 And then Natalie told you that she just hoped that Meredith will be much to suffer a lot, but that she would die quite quickly. Si, la polizia le aveva detto che è stata tagliata la gola di Meredith e quello che sapeva Amanda è che questa era una morte accostinizzante. Ma questo noi l'abbiamo saputo dopo, anche noi l'abbiamo saputo dopo. Non subito. Ma la polizia le aveva detto che è stata tagliata. Tagliato, scusi, io vorrei che tagliare il collo può avvenire in tanti modi, si possono colpire delle arterie vitali e possono non essere colpite. Quindi una cosa è tagliare il collo, una cosa è come tagliarlo e quindi dar luogo ad una morte immediata, istantanea, una morte con una agonia. Lei la sera del 2, se è vero, secondo queste risultanze, la sera del 2 sapeva che con quel genere di ferite Meredith aveva avuto un'agonia. E la polizia non lo sapeva. la polizia non lo sapeva di essere stata conto, ma le conferm لم a sapere di aver 25 oずi. Adesso la polizia non lo sapeva, però la polizia non lo sapeva. Ma il polizia non lo sapeva, però non lo sapeva. l'autopsia è stata fatta il 4 due giorni dopo quello aveva sempre spesso in sé che tagliare la gola è una morte lenta in generale non è così non necessariamente comunque chi le ha detto della lesione alla gola della polizia lei lo dica quindi gliel'ha detto quando lei è stata sentita quindi quando lei è stata interrogata non prima prima di essere interrogata non sapeva come era prima di essere interrogata lei è stata interrogata alle 15.30 fino a che ora è stata sentita fino a che ora è stata sentita era molto lunga era molto lungo era dastolto dastolto Fabio ha chiesto come è stata e questo le ha indicato il collo basta la ferita alla gola e basta e basta e basta grazie a tutti 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 grazie a tutti